Stimolare la fantasia di bambini e ragazzi e portarli con l'immaginazione a compiere quel viaggio che tutti, negli anni dell'infanzia, avremmo voluto fare o abbiamo almeno sognato. L'associazione Arte e Cultura Società La Dotte propone due iniziative, una mostra sui modellini dei treni in corso da alcuni giorni al Palazzo della Frumentaria e un concorso aperto alle scuole per celebrare i 60 anni dell'Unicef. Il treno, sogno, gioco, realtà, il mio viaggio in treno, riservato ai bambini e agli studenti delle primarie, delle medie e delle superiori di Sassari e dell'Interland. Il concorso nasce con l'intento di promuovere il grande valore dell'ecologia e della conoscenza del territorio. Può essere utile anche per riflettere sui temi della guerra e sulle emigrazioni di milioni di persone, costrette a fuggire per sopravvivere ai conflitti ancora in corso in diverse parti del mondo. Questa mattina l'iniziativa è stata presentata a Palazzo Ducale dal sindaco Nicola Sanna, dall'assessore alle politiche sociali Monica Spanedda e dai vertici dell'Unicef Silvana Pinna per il Nord Sardegna, Paola Manconi, presidente regionale e Renata Corona, rappresentante nazionale. All'incontro ha partecipato anche Luigi Pacchioni, per conto di Enrico Dallacca, proprietario dei modellini in mostra alla frumentaria. È stato Carlo Anterossanna, promotore del concorso tramite l'associazione Arte e Cultura Società, a illustrare i dettagli del bando. I partecipanti potranno raccontare le proprie storie, sensazioni ed emozioni attraverso un disegno, un saggio breve di massimo 30 righe o una poesia inedita. Gli elaborati dovranno essere consegnati al punto d'incontro Unicef di Viaducra e gli Abruzzi 3 dal 27 al 28 febbraio prossimi.